La digitalizzazione è uno dei motori dell'innovazione e per questo è fondamentale che anche le donne ne capiscano l'importanza. Noi donne del Comitato per l'imprenditoria femminile della Camera di Commercio abbiamo avviato dal 2017 un progetto di alfabetizzazione digitale per dare l'opportunità alle donne imprenditrici e non solo di colmare il gap che ancora purtroppo ci separa dagli uomini. Per far questo ci siamo appoggiate al PID che è il punto di informazione in presa digitale della Camera di Commercio di Torino coinvolgendo scuole e consulenti nazionali ed internazionali.